Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme, avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate. I farisei, infatti, e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ed egli rispose loro «Bene approfetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. In vano mi rendono colto, insegnando dottrine, che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro «Ascoltatemi tutti e comprendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli «Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calugna, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». Si può fare una pratica tanto antica della Chiesa, ma buona l'esame di coscienza. Chi di noi, alla sera, prima di finire la giornata, rimane da solo, da sola e si fa la domanda cosa è accaduto oggi nel mio cuore, cosa è successo, che cose sono passate attraverso il mio cuore. Se non lo facciamo, davvero non sappiamo vigilare bene né custodire bene.